Incidente nella serata di venerdì 5 agosto, poco dopo le 20, sulla 4.60 all'altezza di Bosco Nero. Una Fiat Punto fuori controllo, condotta da un 49 anni di Borgaro, dopo aver zigzagato, è uscita di strada, ribaltandosi in mezzo ad un campo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della croce rossa di Castellamonte e Reni, le risoccorso del 118, i vigili del fuoco di Brea, Bosco Nero e San Maurizio Canavese e i carabinieri della compagnia di Chivasso. L'uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato dall'ambulanza di Castellamonte all'ospedale di Cerie. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica è il valio dei carabinieri. Acceso di fun. Grazie a tutti. Grazie a tutti.